Per aprire questa porta di non morti ho deciso di prendere la parte sotto di rattleshake e ho preso la parte sopra di magna charge Mi piace molto comunque il suo fucile Questo però ho già capito che c'è qualcosa Non so ne mancano anche a questo livello La cosa carina è che ci viene attribuito il potere elementare a parte su Palo, palo Ah perfetto sconfitto così Beh magna charge vuol dire che mi sparo dalla distanza non è male per niente Fantastico poi l'aiuto Qui vediamo un po' Ehi ah quindi sono incastrato Non so bene perché Non so bene cosa sia Queste diavolerie è strano Ne era buccato o ne era accolto Era messo Uh al pelo Che cavolo di livello è? Strano Oh palo Ed ecco il nostro premio Un bel pacco regalo che ci danno tesoro leggendario No un zafiro alato Wow Bello trovare gli zafiri alati che come al solito ci danno degli sconti Preziosi Molto molto preziosi e utili Perfetto continuiamo con questo swap Visto che poi mi dite che sono uno swap E mi piace giocare anche un po' i pigi interi Non voglio per forza mescolarli Allora vediamo un po' Secondo la mia esperienza a video giocatore Di là la strada principale Di qua c'è semplicemente una sfida Che però non possiamo fare Eh non ce l'abbiamo uno skylander swap con l'abilità furtività Quindi c'è ciao Bene di qua Soldi e basta Li raccogliamo perché ci servono Il fuoco mi colpirà Ma non è vero Potrebbe colpire questo Sì è vero Però vabbè E' male sopportabile Guarda che potevo sollevare anche i nemici interi Ti ho Ragazzi questo Ho fatto un po' di danni ma tanto siamo Tosti Ora apriamo l'acqua Ci avrete degli estintori in giro Non apriteli Un po' con gli estintori io volevo dire i cosi però Idranti Mi è uscito estintori Una piccola cosa che succede Allora qui ci vuole una bombetta d'acqua Che è qua Per arrivarci si passa sul fuoco Che mi ha colpito qui E giurerei che se mi colpisce Mentre sto sulla palletta d'acqua Mi esplode pure la palletta d'acqua però Sono dettagli Furtili i dettagli Io volevo spararti da qua comodo Tu invece mi dovevi colpire per forza Con il razzo Vabbè Me ne ricorderò Fuggiamo tutto Oh Tappo Quindi dire che è abbastanza facile schivare Allora dobbiamo andare prima di qua Aia che cavolo mi ha colpito Lo fermo Mi interessa colpitemi quanto vi pare Io arrivo a prendere questa A massimo cambio personaggio se me lo ammazzate Oddio questo sembra figo Affinità con le gemme Andiamo scratch Bellissimo Questa è la classe di Weirwind Zap E Spyro Ma è fighissimo Ok dopo Fraino devo avere anche scratch Ok scratch e Fraino sono Quotati per essere i prossimi Non swap da acquistare Perché Fraino mi pare che non era uno swap Ti ricordo bene Bellissimo Non c'è qualcosa No Ma c'è una zalla lì di fianco Ma non ci si può saltare sopra Questa ci picchia un po' Un po' si mi sa Cavolo C'è un po' molta gente qua Eh però se c'è livello superiore allora Vuol dire che non sono mica scarsi questi cosi qua Gli osso del serpente Bene ci diamo giù con l'idrante Ah ridaglie Sì no con l'idrante Favuto l'ho detto giusto E uno pensa più malestintore Però in realtà Quando ci sono così per strada Quelli classici rossi americani Che si vedono nei film Sono gli idranti Le creme che potete trovare in bagno di vostra madre Magari sono idratanti Invece è un'altra cosa È una grossa differenza Oggi faccio delle battute veramente brutte Anche più brutte del solito forse Dai i miei amici non mi vogliono bene Perché faccio le battute brutte Se puoi esagero Sono d'accordo Non possiamo far danneggiare ancora l'albero Andiamo Spirito albero Sì insomma è la stessa cosa Guarda qua Che fumana Non devi stare in una sala fumatore Ok Che avevo distruggere i missili Utilizzando D'idropompa C'è tanto vale Allora Che vocavo blast ho Dio che tristezza Cosa vuoi dire Con ordinato caos Bene Caos Caos Ma non lo posso colpire Cioè continua a colpire Non fa niente Ok adesso sì Avevo quasi spento i motori Adesso ho capito come funziona Praticamente li spengo Abbiamo messo di qua Qui di qua Abbiamo di qua Qui di qua No Spento Non ho fatto tempo Ti fai a batter Un altro successo Smettila di fare così Così come scusa Io voglio provare una cosa Ma funzionerà Anche mentre sto sparando Che sono sulla nave Il potere elementale Perché secondo me Sì E se funziona Come dovrebbe funzionare normalmente Credo che mi comincia a curare Dopo che avevo capito Siamo caparsi delle Le gambe di polpo Andiamo un po' C'ha 667 di vita Vediamo se si ricarica Come fa nella zona elementale No non lo sta facendo In compenso dire Che abbiamo finito Sì Ho salvato l'antico spirito Sì Per ora Ho perso un dalmata Beh i due tesori Diciamo che Ho perso un dalmata Da qualche parte Che non l'ho visto Una pregamena Che non l'ho vista O forse bastava spegnere Delle zone col fuoco Per farle saltare fuori Mentre due tesori leggendari Probabilmente entrambi Facevano parte Delle sfide swap Quindi quella teletrasporto Che non potevo fare Quella infiltrazione Che non potevo fare Probabilmente Grazie a tutti Grazie agli Skylander Le isole e nubi aperte Sono di nuovo al sicuro E la cerimonia dell'eruzione Può iniziare Ma Non è solo per questo Che ci rallegriamo oggi E' arrivato il momento Che sia una nuova generazione Accogliete la nostra Coraggiosa Tessa Come vostra nuova Capotribù Tessa o nuova capotribù Abbia inizio Liberatevi stolti O affrontate l'ira nefasta E fuoribonda Dicatelo Io odio i fiori C'è Caspita Sarà fantastico E sai cosa ci vuole adesso? Proprio così Un boom speciale Per il vulcano Dio che brutta Congratulazioni Skylander Ancora una volta Avete sventato Uno dei piani Ridicolmente pretenziosi E mal congegnate Di mio figlio Wow Tua mamma è proprio severa Tu dici? Ma non finisce Di certo Qui Ehi cosa Tessa Ehi Tu Ripartala subito qui Non penso proprio Se la vuoi Dovrai venire A prendertela Oh cielo E' terribile Hanno rapito Come hanno detto Toccare lei il capo Hanno rapito subito Skylander Sa che hai già fatto Tanto per noi Ma ti prego Devi salvarla Ma si si La salverò Skylander Potrebbe essere Una trappa Come potrebbe E' sicuramente Una trappa E' sempre stata Come una figlia Per me E non sopporto L'idea Che le accada Qualcosa di brutta Ma è sempre troppo vecchia Per avere una figlia Così giovane Però vabbè Bene Rufus Sono quasi d'accordo Con te Perché non sarà Al più presto Ma raggiungerò Sharpfin E Flynn Domani Alle 15 Sempre su WargamesTube Mi raccomando ragazzi Non mancate Ciao